Buon compleanno, Centro Commerciale La Fattoria! Grande pomeriggio, quello di sabato 20 novembre al Centro Commerciale La Fattoria, che per festeggiare il suo dodicesimo anniversario ha ospitato tre grandi miti degli anni Ottanta, Fior d'Aliso, Irigheira e, da Drive-In, il programma culto di quel periodo, un grande comico, Sergio Vastano. Numerosissimo il pubblico che ha affollato il Centro Commerciale per non perdersi l'evento. Alle 16.30 è salita per prima sul palco Fior d'Aliso, che ha cantato i suoi indimenticabili successi targati anni Ottanta. Fior d'Aliso e la band! Grazie ragazzi! A seguire l'esilarante comicità di Sergio Vastano Ciao! Sergio Vastano! Eccomi qua! Quando feci l'ultimo esame, era l'esame di toponomastica, di sapere gli onomastici di tutti i top. Galo Ficchio! Adesso ti saluto, perché devo correre all'ospedale. Tua sorella sta per partorire. Non so ancora se sarà maschio o femmina, quindi non ti posso dire se sarai zio o zia. Grazie! Ciao! E a chiudere Irigheira con le loro grandi hit. Quindi per tutti i presenti, il taglio della mega torta. Ed eccoli tutti in esclusiva per Rovigo TV, i protagonisti di questo grande anniversario. Io sono in tour con una tournée teatrale che si chiama Menoposed Musical, che parla di quattro ragazze in adolescenza. È un musical americano. Questo è il quarto anno che lo facciamo. Siamo io, Fioretta Mari. Fino all'anno scorso c'era Marisa Laurito. Quest'anno Marisa fa Giungi un posto a tavolo e abbiamo preso un'altra grande artista che si chiama Manuel Aureli. Ciao! Ci troviamo con Sergio Vastano, direttamente agli anni 80. Vieni, vero? Sì, ho avuto un po' di ritardo perché c'erano alcuni treni e non lo trovo di coincidenza. Vado a fare un giro perché devo prendere il panno loro. Ho sempre questa lap dance nel cuore e ho aperto questo locale di lap dance. A Rovigo TV, a Michela e tutti i maiali del mondo. Un applauso, grazie! Irigheira, benvenuti. Grazie. Continueremo a fare quello che stiamo facendo adesso, cioè i soliti pezzi nuovi. Il dodicesimo anniversario del centro commerciale La Fattoria. Un evento indimenticabile. Un grande successo.